Domenica 6 agosto ore 16.30 nei pressi del ponte a funi sospese sul lago di Vagli inaugurazione della statua in marmo che l'amministrazione comunale di Vagli Sotto ha dedicato all'eroe di Palmira, al soldato russo Alexander Prokorenko. All'iniziativa interverranno autorità russe e italiane. È gradita la presenza di tutti, anche di militari in servizio o in congedo con i rispettivi simboli di appartenenza.